Conosciti che il tuo corpo è una fattuta macchina da guerra Io posso ascoltare le persone che mi dicono al settimo giorno ti infortuni Andiamo dritto al punto Non so quanti di voi qua su youtube sanno che su instagram sto portando una sfida al di fuori dal comune 21 km tutti i giorni e il 24 settembre incoronare il tutto con 100 km Attualmente siamo al giorno 39 le gambe hanno macinato un bel po' di chilometri Dovremmo essere sugli 840 circa E ci sono tre importanti lezioni che questa esperienza mi sta dando e voglio condividere con te La prima lezione è tutta una questione di mindset Dopo ben 39 giorni 38 giorni in cui somma quelli che sono Posso garantirti che è tutta questione di testa Perché le stesse difficoltà che affronti di andare a correre tutti i giorni 10 km, 5 km, 3 km Sono le stesse difficoltà che trovi tutti i giorni qua andando a correre 21 km Perché hai i giorni in cui non hai voglia Hai i giorni in cui sei affaticato Hai i giorni in cui hai sonno Hai i giorni in cui hai lavorato tanto E quindi lì in quel momento lì cos'è che comanda se non la testa Ci sono stati dei momenti soprattutto nelle prime due settimane che volevo quittare a tutti i costi Volevo quittare Non ce la facevo più Non tanto fisicamente poi sì bel po' di defaticamento c'era Ma era più per una questione di testa Perché andare lì e correre due ore era per me qualcosa di massacrante Contando il fatto che quando parti tutto fila liscio Cioè è proprio una cosa che è qui sulla tua testa Poi vi dico all'inizio nelle prime corse è stato faticoso Convinciare la propria testa di potercela fare anche durante la corsa Perché se voi andate su Instagram e andate a guardarvi le mie prime corse Noterete subito il mio atteggiamento, il mio modo di parlare Come era indirizzato Era tutto motivazionale perché quello che avevo bisogno Cioè era motivarmi, motivarmi, motivarmi Quindi sostanzialmente la fatica che fai per prendere una scelta Di andare a correre 5 km, 10 km La stessa fatica mentale che fai andando a correre 21 Se devo proprio trovare una differenza È che sicuramente c'è un po' più di doloretti Però non è quello tanto che incide la fine nella scelta La lezione numero 2 Invece di non farsi influenzare dagli altri Quando ho lanciato questa sfida Sono arrivate veramente tantissime, tantissime persone a valanga, a cannone E tutt'oggi arrivano persone a valanga, a cannone Che mi dicono che non ce la posso fare per X motivi Il problema qual è? E tra l'altro ci ho fatto anche un piccolo video su Instagram È che quella verità è una verità che funziona per loro Non per me Io la verità su questa esperienza non la so e non la ho La sto facendo adesso Quello che sicuramente mi dà l'atteggiamento tra virgolette di sicurezza Che sì è straordinario ma neanche così tanto straordinario È che ci sono tante altre persone al mondo Che l'hanno fatta questa sfida O magari hanno fatto qualcosa di peggio Vi faccio un esempio In Germania c'è questo ragazzo in realtà ha 50 anni Non ne ho idea Comunque sta correndo un triathlon al giorno Un triathlon al giorno da 107 giorni E deve arrivare a 120 Ma secondo voi? Io che vedo un 50enne, 40enne comunque Che fa questa tipologia di esperienza Io posso ascoltare le persone che mi dicono Al settimo giorno ti infortuni Posso ascoltare le persone che mi dicono Al decimo giorno mi infortunio Perché le mie gambe non reggono Perché non ce la posso fare Ma posso? Conosco certe persone che fanno quelle tipologie di esperienze E fanno quelle tipologie di imprese Che sono gigantesche in confronto alla mia impresa E questo avviene in ogni cosa della vita Quando vuoi lanciare un qualcosa di nuovo C'è sempre qualcuno che ti va contro E ti dice perché non funziona Quando vuoi iniziare palestra A un'età diversa dalla solita E ti dicono perché non dovresti andare Gli acciacchi Cioè ci sono mille, mille, mille Per ogni cosa nuova che vuoi andare a fare Che le persone intorno a te Ritengono strane Ci sarà sempre la persona che ti dirà Non farlo Per questo, questo, quest'altro motivo Sì c'è tante persone che dicono Wow 21 km al giorno È qualcosa di straordinario Incredibile Ma ragazzi Io sono umile E mi rendo conto che Ci sono persone che hanno fatto qualcosa Di più straordinario All'interno della propria vita A livello proprio anche di imprese E questa è una cosa minima E io posso farcela in questa cosa minima Al 100% E ho 23 anni E nella mia testa Ci sono già le prossime sfide Io vi garantisco Ve lo dico qua A distanza di 10 anni Perché penso mi ci vorrà un po' di preparazione Ma io Il record Adesso verrà fatto I 123 atron Tra battuto dal sottoscritto Il record italiano Bene Andando avanti La terza lezione È impara ad ascoltarti Il corpo è una macchina Questa è molto 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 collegata in realtà Al primo e al secondo punto È più una conseguenza Un insieme Cosa intendo con impara ad ascoltarti? Impara a conoscere il tuo corpo Impara a capire di cose capaci di fare in tuo corpo Perché molte persone si limitano Alla sofferenza giornaliera Alla sofferenza di 10 chilometri Alla sofferenza di 5 chilometri Dicono Questo è il massimo Che posso sopportare In realtà non è vero Il tuo corpo è capace di Avere uno stress assurdo Di prenderlo come lezione Crescere E rafforzarlo Ecco il motivo per la quale Io comunque dopo 38 39 giorni Sto continuando a macinare Chilometri su chilometri Su chilometri E il quarantesimo giorno Correrò 40 chilometri Il cinquantesimo giorno Correrò 50 chilometri E penso allungherò la 100 chilometri Fino al settantesimo Giusto per Se io non avessi consapevolezza Che il mio corpo è una macchina Perfetta Tra virgolette Ovviamente non andrei a farlo Come puoi renderti conto di ciò Conoscendoti Costruendo anche un portafoglio di sfide Che hai già portato a termine Da utilizzare nei momenti In cui sei più giù Nei momenti in cui Ti senti più demotivato Quel portafoglio di sfide Che ti dicono Ok ho già fatto questo Questo e quest'altro Posso sicuramente fare questo Ho affrontato di peggio Quindi conosciti Mettiti in gioco Vai a fare cose pazze Vai a fare cose pazze Perché c'è troppa gente Che dice Eh no non ce la posso fare Ho 10 chilometri Soglia del dolore massima 5 chilometri Soglia del dolore massima Sono passato a 10 chilometri A 21 In uno schiocco di dita E la prima e unica mezza maratona Che ho già fatto Nell'interno della mia vita Era con delle ciabatte Per una sfida Che tra l'altro trovi Nel canale di sfide Quindi per farvi rendere conto E conosci anche le esperienze Che hanno fatto altre persone E quindi ti fa ispirare Puoi andare a fare Di tutto all'interno della tua vita Infatti con questo video Io ti auguro Di buttarti Di cimentarti In sfide pazze Magari fallisci Perché per esempio Ho fallito anch'io Nella mia prima maratona Perché ho sopravvalutato Il mio corpo Ho appena finito Quelli dei bigocchi In sera Fuerteventura Tutte dune Non avevo le scarpe Sono andato a correre Ho corso 25 chilometri Sono crepato Sono crepato E non ho chiuso La mezza maratona La maratona Magari ti cibenti Fallisci Però impari Quindi buttati 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 Conosciti Che il tuo corpo È una fattuta macchina da guerra Questo video Termina qua Se non prima Di dirti Che se vuoi Seguimi su Instagram Seguimi su Strava A sto punto Lascia un like Condividi E noi ci vediamo Al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti